Commercianti e artigiani per ora stanno alla finestra ma restano scettici sul progetto presentato mercoledì pomeriggio dall'assessore viareggino Federico Pierucci relativo ai lavori di riqualificazione di via Mazzini, ovvero la strada centrale di viareggio che collega la stazione ferroviaria al mare e che secondo il progetto dell'amministrazione del Ghingaro dovrà diventare il fiore all'occhiello della città. Commercianti ma anche i cittadini non chiudono la porta al progetto ma chiedono un dialogo e di essere coinvolti temendo che via Mazzini diventi una seconda via Garibaldi. Se ci fosse una preferenziale sì io faccio un lavoro che poi a me la preferenziale mi tornerebbe bene faccio il tassista. Penso che sia un progetto non conforme al traffico al movimento che c'è ora nelle città. Penso che sia una bella occasione per viareggio per avvivare la città soprattutto una strada di passaggio. Penso che se facciano quel parcheggio come hanno detto a Pettine si chiude. Mi sembra che comunque si vada incontro a un restringimento e una pericolosità per quanto riguarda la strada. Sono molto perplexo. La mia perplessità è quel che riguarda i parcheggi. Secondo me fare un altro vicolo tipo il vicolo di via Garibaldi. In via Mazzini non lo trovo una bella cosa. Malissimo, bruttissimo e via dicendo. Noi vorremmo sapere per esempio che cosa faremo con il nostro Deore. Scandaloso. Basta. Dunque c'è aria di dissenso tra i cittadini e come abbiamo sentito in molti bocciano quello che sembra essere un progetto radicale dell'amministrazione via Regina.